Coronavirus in Puglia. Per la prima volta le terze dosi di vaccino anti-covid superano quelle delle prime somministrazioni. E intanto va a regime anche la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale. La regione Puglia ha infatti acquistato 1.600.000 dosi di vaccino da distribuire in tutto il territorio pugliese. In Puglia anche la città di Bari si allinea al trend generale in calo della diffusione del coronavirus. I contagi nel capoluogo di regione e in tutta l'area metropolitana barese sono in netta riduzione ormai da settimane. Il tasso settimanale per 100.000 abitanti non va oltre quota 8,5 rispetto al 12,7 di sette giorni prima. In questa fase della campagna vaccinale anti-covid il numero di vaccinazioni settimanali si attesta intorno alle 20.000 dosi con una prevalenza delle terze dosi aggiuntive che hanno superato le erogazioni di prime somministrazioni e dei richiami. La grande adesione della popolazione over 12 si riflette sulle percentuali di copertura 90% con almeno una dose di vaccino, 87% per il ciclo completo, un punto in più rispetto alla settimana precedente. L'impatto si segnala anche sulla popolazione over 60 vaccinata con prima dose al 97% e in modo completo al 95%, ma è molto elevata anche l'adesione della fascia di età scolastica tra i 12 e i 19 anni. L'86% dei giovanissimi ha infatti già ricevuto la prima dose, mentre l'81% ha ultimato il ciclo. E intanto va a regime anche la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale in tutto il territorio pugliese. Le indicazioni operative per le vaccinazioni della stagione 2021-2022 diffuse dal Dipartimento Salute della Regione Puglia prevedono degli obblighi di informazione e di promozione delle vaccinazioni a tutti i livelli del servizio sanitario regionale. La Regione ha infatti acquistato 1.600.000 dosi di vaccino da distribuire. L'offerta sarà garantita a partire dall'effettiva disponibilità da parte delle ASL con una priorità agli operatori sanitari, dei soggetti a rischio, dei cronici in carico alle reti, dei pazienti ricoverati in ospedali o RSA. Le ASL potranno utilizzare anche gli hub vaccinali già attrezzati per il vaccino Covid e tutte le reti vaccinali attivate anche nella prospettiva connessa al richiamo della vaccinazione anti-Covid. Infine sul fronte dei contagi sono 203 i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia su 19.415 test giornalieri registrati. Nessun decesso è stato accertato. I nuovi casi per provincia sono stati così distribuiti a Bari 70, nella Bat 1, a Brindisi 17, a Foggia 43, a Lecce 29, 41, a Taranto.